Disturbo? Pensavo che l'avesse finito. Prendi un bicchiere anche per te. Grazie, ma sarebbe solo uno spreco darlo a me. Credi che sia stata una perdita di tempo venire qui, eh? La risposta a questa domanda dipende da che cosa speravate di ottenere venendo qui. Quello che speravamo di ottenere era trovare i nostri creatori e fargli delle domande. Prima fra tutte, perché ci hanno creato? Secondo lei perché voi avete creato me? Perché ne siamo stati capaci. Pensi a che enorme delusione proverebbe se il suo creatore le rispondesse così. Posso farle una domanda? Ma certo. Fino a dove arriverebbe per ottenere le risposte per cui è venuto fin qui? Cosa sarebbe disposto a fare? Farei qualsiasi cosa. Sì. Sì. Sì.